Evangelizzare in un cambiamento d'epoca, come dice il Papa, ovviamente deve essere l'occasione di dar spazio alla creatività, perché le vecchie categorie non reggono più e vanno ripensate. Il che vuol dire molte volte anche rovesciare la prospettiva, non dire ma ascoltare, non insegnare ma accompagnare, far partecipare il destinatario, appunto che non è più un destinatario, ma è un coprotagonista insieme alle persone che vogliono tutti insieme comunicare il Vangelo. La comunicazione in fondo è relazione, non è appunto erogare un servizio nel senso di fornire un'informazione, una nozione, non è quindi depositare un pacco postale, la notizia come pacco postale, la notizia o il concetto, il messaggio, ecco non è un messaggio da depositare all'ufficio postale, è una relazione da tessere insieme.